Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica sulle borse internazionali a metà settimana, oggi giovedì 8 luglio, sono quasi le 17. Parto come al solito dal mercato italiano, il future Fuzzimib che oggi ha avuto una giornata fortemente negativa, stiamo perdendo più del 3%, non era esattamente quello che volevo ma era quello che in realtà temevo e avevamo previsto anche come ipotesi, come scenario nell'analisi precedente dove il mercato non aveva probabilmente più la forza di salire, non trovava la necessaria spinta per superare il livello 25.500, 25.450 e quindi solitamente come dice empiricamente l'analisi tecnica, se un mercato non riesce più a salire poi inevitabilmente scende e lo sta facendo proprio oggi con questa lunga e pericolosa candela rossa, pericolosa non solo perché è negativa ma perché è stato violato contemporaneamente il livello 25.000 che era una soglia psicologica importante e che avrebbe sostenuto, visto che era un supporto alle quotazioni del mercato, ma è stato addirittura violato al ribasso il livello 24.565 dello scorso 21 giugno, quindi siamo al di sotto di tutti i supporti che sono stati violati, quindi siamo in un mercato che sembra aver invertito la propria tendenza. Non escludo per le prossime sentute un rimbalzo, ma semplicemente un piccolo rimbalzo che poi purtroppo potrebbe vedere le quotazioni scendere ancora fino a o sotto 24.250 fino a lambire anche la soglia dei 24.000 punti. La positività a questo punto io la rivedo solo sopra il livello 25.000 che, vista le quotazioni attuali, sembra al momento abbastanza lontano, quindi qualche seduta forse di rimbalzo, ma purtroppo assestamento e molta pressione di bassista che vedrà le operazioni short avere maggiore probabilità di successo. Passando al mercato tedesco al future DAX, anche qui la giornata di oggi decisamente negativa, la situazione però non è così messa male come sul mercato italiano. È vero che abbiamo rotto a ribasso il 15.500, ma non abbiamo ancora rotto il 15.257, area 15.250 dello scorso 21 giugno, quindi diciamo l'ultimo e più importante dei supporti al momento non è stato violato e non è stato toccato, quindi ci sono diciamo buone possibilità che tenga e che permetta nelle prossime sedute un piccolo rimbalzo del mercato. L'unica cosa decisamente negativa è che oggi è stato violato più o meno in area 15.375 anche l'indicatore supertrend nonché l'indicatore parabolic SAR. Quindi sì, anche in questo caso negatività, anche in questo caso a differenza dell'Italia che mi sembra già aver invertito qui, sembra cominciare solo adesso ad invertire, lo fa diciamo senza, però lasciandoci ancora qualche speranza fondamentalmente perché il supporto di 15.250 ancora non è stato toccato, quindi diciamo che la negatività ancora non è conclamata. Anche qui per le prossime sedute mi attendo un piccolo rimbalzo, pullback di queste rotture di bassiste che possa eventualmente andare a toccare nuovamente il 15.500, poi vedremo cosa fa il mercato. Certo che se ha deciso di invertire e di farsi assistere ad un'estate non positiva, beh probabilmente proprio oggi il tutto è cominciato. Negatività anche oltro oceano sul mercato americano, qui abbiamo lo standard and poor 500, ma questo come avevamo già detto nelle analisi precedenti, un mercato non può salire in eterno sempre battendo se non seduta dopo seduta, ma almeno ogni due o tre sedute o comunque tutte le settimane un nuovo, realizzare un nuovo massimo storico, questo non è possibile prima o poi c'è bisogno di un ritracciamento, se non un'inversione di sicuro un corposo e spiccato ritracciamento. Sembra avvenuto anche negli Stati Uniti, anche oggi non senza, però ricordo che l'apertura è sul 4.352, praticamente il massimo storico, quindi ha aperto sul massimo storico e poi deciso di ritracciare nell'intraday, ma questo tipo di ritracciamento voglio dire è abbastanza normale, abbastanza fisiologico, comprensibile, ce lo si poteva tranquillamente aspettare. Credo che sullo standard and poor 500 questa discesa possa continuare ancora diverse sedute, credo che adesso il primo obiettivo è 4.260 dove passa sia la media mobile che l'indicatore supertrel, ma credo che nelle prossime sedute verrà violata a ribasso fino a tentare di raggiungere un target ribassista del 4.200 e poi vedremo come si comporterà su questo importante livello, su questo importante supporto. La cosa negativa è il fatto che non tanto per l'America in sé, dove lo short ci sta e probabilmente è anche giusto che sia così, quanto il fatto che questa negatività degli Stati Uniti trascinerà al ribasso anche le borse europee che abbiamo analizzato in precedente, quindi ribassi a mio parere che sono appena cominciati. Riguardo alle commodities, iniziando con il petrolio, il crude oil, anche qui l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata corretta, avevamo detto che 75-76 era il target del lungo e perdurante movimento rialzista che ha caratterizzato l'andamento del petrolio negli scorsi mesi e che quindi a quel momento ogni operazione è lunga e poteva essere tranquillamente chiusa perché il target, anzi il più ambizioso dei target era stato raggiunto, 75-76 questo era, io ho chiuso la mia posizione longa addirittura a 72 perché un primo target era quello, mi sono perso un pozzettino di rialzo, ma accorsendo di poi alla fine va bene perché c'è stato un ritracciamento e siamo tornati a 72, credo che questo ritracciamento potrà essere ancora più corposo, nel senso che mi attendo che venga violato a ribasso il super trend sul livello 70 e 85 e possa riportarsi attorno a 67 e 50, quindi questo ritracciamento possa andare ancora un pochettino più giù, poi su 67 e 50 francamente lì c'è un supporto storico importante e che andremo a vedere come il mercato si comporta, ma a quel punto diciamo che non escludo un eventuale ingresso nuovamente long sul mercato, visto che il petrolio comunque ha nel lungo periodo target rialzisti molto più alti anche sopra gli 80 dollari al barile per cui la potrei considerare su 67 e 50 anche una buona occasione d'acquisto. Adesso ci siamo in mezzo, io non entro long perché mi aspetto di comperarlo e vorrei comperarlo a prezzi più alti, non mi metto neppure short perché l'indicatore super trend fino a quando non mi verrà violato al momento mi fa da supporto e mi sostiene le quotazioni. Diversa invece la situazione dell'oro che sta lavorando, questo importante a questo punto ha dato resistenza sul livello 1800. La scorsa settimana avevo detto che per me il livello di breakout rialzista era 1800 e effettivamente io martedì 6 luglio sono entrato in posizione long a 1800 sul livello 1800, poi c'è stata una giornata che mi ha particolarmente ingannato perché le quotazioni si sono spinte fino a 1815 per poi essere nell'intraday completamente riassorbite, il giorno dopo è andato un po' meglio chiudendo sopra 1800 e mi sta facendo un po' soffrire oggi visto che è a 1799 quindi sono in leggerissima perdita. Sto ragionando se tenere la posizione oppure chiuderla anche a questo livello vicino a questo prezzo di carico perdendoci qualcosina perché mi rendo conto graficamente e quindi senza l'ansia, cercando di depurarlo dall'ansia di chi è in posizione e quindi di chi sta anche leggermente perdendo in questo momento, cercando di depurarlo da questo, in realtà vedo che tutto sommato quel livello 1800 che abbiamo dato come breakout rialzista in realtà non è ancora avvenuto, non è stato confermato, non è così chiaro e conclamato come pensavo, quindi io al momento sto ragionando se tenere la posizione o chiudere la corologia perdita, per chi invece non è in posizione bene affatto a non ascoltarmi e a questo punto però diciamo che diventa anche più semplice e più chiaro il segnale operativo che è long, io non andrei short francamente sul loro, francamente mi aspetto due scenari, uno scenario di trading range compreso fra il livello 1775 e 1825 insomma che continui ad oscillare attorno al 1800 quindi un trading range oppure uno scenario invece sicuramente positivo sopra però il 1830 dove staziona l'indicatore super trend, escluderei lo scenario negativo, lo scenario short ma mi atterrei a queste due ipotesi o trading range o magari anche più ristretto rispetto a quello che ho appena citato oppure aspetterei per il long il 1830, questo ovviamente per chi non è al momento in posizione quindi l'unico segnale che c'è è il breakout del super trend 1830. Passando e chiudendo con le valute in modo particolare con l'euro dollaro direi che anche qui la nostra operazione short impostata la scorsa settimana è andata a buon fine, il target ribassista di questo di questa operazione short era 1.18, c'è una grossa trend line ribassista su questo cross ed è stato raggiunto e qui ho chiuso la posizione, potevo speculare ancora qualche pippe, qualche tic perché effettivamente è sceso fino a 1.17.81 però poi c'è stato già nella giornata di oggi un importante rimbalzo, oggi siamo a 1.18.57. Ecco per quanto riguarda le sedute successive e prossime e anche qui mi attendo un po' la prosecuzione di questo rimbalzo che potrebbe portare le quotazioni non credo molto in alto perché il dollaro rimane comunque forte ma a questo punto diventa abbastanza chiaro che il livello 1.17.81 per un'eventuale accelerazione ribassista che le quotazioni dovessero continuare a scendere ma è un'ipotesi che ritengo meno probabile, credo invece che questo mini rimbalzo dell'euro possa continuare anche se tenderà ad avvicinarsi a 1.19.38 dove passa la media mobile e l'indicatore super trend ma credo che sarà abbastanza difficile ma qualora lo fosse potrebbe essere comunque un target rialzista da considerare cioè chiudere eventualmente la posizione perché a quel punto difficile che vada a superare a rialzo anche l'indicatore super trend è chiaro che per un bel long bisognerebbe andare oltre 1.19.38 con obiettivo 1.20 dove poi storicamente anche lì c'è un'importante resistenza quindi cavalcherei anche fin da subito questo trend rialzista cioè trend questo rimbalzo rialzista anche adesso anche andando a mercato tenendo la posizione overnight per diverse sedute perché credo che ci possa essere questo rimbalzo 1.17.81 invece è sicuramente lo stop loss da mettere perché significa che il trend ribassista continua ancora per molto con l'afforzamento del dollaro io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading